abbiamo di giacomo la battuta contro ronald rodriguez e come è tirato in Zaul? l'ennesimo ball commenta caldo? come fa un commenta caldo? mi sono veramente un bambino con questa mi sa che non vado più in difesa lasergate buono Ale breaking ball 68 miles per hour e' valida l'ho filmata non facciamo, vai dal 94 uè e' salto e' salto ora fai giusto sei il matto con un camallo ehi 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 non c'è mai stato nessuno che correva da noi siamo mati facciamo una uo cancela tutto cancela per me gli ha spirezzato il cervello tra l'ultimo la scuola si parole devi dire ci voleva tanto per ora la miglior pistola Lazaro ciao vediamo vedere un attimo il kickoff di Giacomo no, troppo bello si viene si viene non capisco perchè è sempre una roba negativa devo dire ci vuoi filmare? sto già filmando Giacomo guarda guarda lo di ciabatte che roba riesce a fare porca boia ma sentite lo stock si sente è chiaro ho passato da occhio no 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 oh Diggia sta in pareggio Diggia commento a caldo sulla partita per favore bella partita dai ragazzi i blu stanno giocando molto bene dai porca boia è un pesaro vince il pesaro vai pesaro vince il pesaro il pubblico gremisce le tribune bere Posso fare la ola se vuoi eh. Se fai da se lo scia eh. Baldo, un tuo commento? Un tuo commento? Aspetta che c'è la ola un secondo. Baldo, vieni che la facciamo in tre. Aspetta Baldo eh, vai. C'ha finta di niente. Attenzione. Sta partendo la ola. Wow. Pensa alle partite dell'anamento. Giacomo, te che ne capisci più di tutto. Giovanni, scusami Giovanni. Te che ne capisci più di tutte. Quante palline hai raccolto fino ad adesso? Solo tre? Una cova cola per il ragazzo. Guarda. Vediamo in prospettiva. Bartoli. Gli bocca un pezzo di culo che sta parlando. E' un K per Celati. Abbiamo Giovane Lorenzo alla battuta. Aspetta, se questa la lascio qui ferma, tanto vado infidoso. Oddio! Oddio! Guarda, guarda, guarda. Va bene Lorenzo, hai portato in te. Bravo Lola, bravo Lola. Porta l'ombre. E' attenzione, ci sono gli scout. Ciao Teso. E' questo quello che ha la valga. Bisogna scegliere bene. Ah, ok. Hai nero. Hai nero. Hai nero, hai nero lì. e' la M, non è per una testa, ma questo è il tipo di gatti. Questa è una nero, chi ha lo chiamato? C'era, sei malissimo. Si, sei malissimo? E' un po' di questiбо milioni, ii ? E' un po' di questi mali e ii ? E' un po' di questi mali e ii ? Carriere, è un toro, no? Sì, è un toro. È un grande grosso. Il ghiaccio non c'è, poi il ghiaccio non c'è. Il ghiaccio non c'è, poi il ghiaccio non c'è. Quello che c'era è per fare il moito. Non so, anche la delasso. Viene un moito. Viene colpito, te li calciò il gosso. 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 Non vengono perché non c'è un gosso. No, non c'è un gosso. No, no, non c'è? No, basta! No, basta! Ah, guarda! Guarda, vengo un momento per tirare il mio gosso. Ah, ora! No, andrò! Non c'è un gosso. Non c'è? Grazie. Conto ancora 2-2. Uomo in terza. Non c'è intesa. Buono Gambo. Buono Gambo. Buono Gambo. Buono Gambo. Buono Gambo. Buono Gambo. vediamo vediamo commento a caldo oppure vorrei dirti quando hai tirato in prima vichi non so voluto andare a casa perché non voglio essere stronzo che so che ci fanno tutto questo